Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Anche oggi si parla di viaggi, in particolare vi andrò a dire quali sono le app fondamentali da avere con sé nel proprio smartphone quando si viaggia. Sicuramente appena ve le svelerò non rimarrete sorpresi in quanto sono applicazioni molto note che sicuramente conoscete e che magari voi date anche per scontato. Però non è proprio tutto così scontato in quanto queste applicazioni hanno qualche funzionalità molto particolare che non è detto che voi conosciate. Ma ora senza troppi giri di parole iniziamo subito con la prima applicazione. Tra quelle che vi andrò a indicare la prima è probabilmente quella più scontata e più nota, ossia Google Maps. È infatti fondamentale durante un viaggio essere sempre a conoscenza della propria posizione e il poter cercare nel giro di pochi secondi il luogo di interesse dove si vuole andare. È inoltre utilissima per trovare il tragitto più veloce per andare da un posto all'altro senza quindi camminare un po' a casaccio. Ma cosa succede se dovete consultare la mappa e siete sprovvisti di una connessione internet? Beh, una volta la soluzione migliore sarebbe stata consultare la cara e vecchia cartina. Ora invece con Google Maps, in realtà non è una funzionalità che è stata introdotta recentemente ma credo abbia già qualche anno, è possibile consultare la mappa in offline. Quindi anche in assenza di una connessione dati. Vi mostro anche brevemente come è possibile farlo. Allora, una volta aperta l'applicazione, digitiamo la città di cui vogliamo scaricarci la mappa. Una volta che è stata caricata la destinazione, premiamo nella parte inferiore della mappa, quindi nella parte bianca diciamo, e poi sui puntini tra in alto a destra. A questo punto ecco che vi compare l'opzione scarica mappa. E premendoci vi uscirà una schermata che vi farà selezionare l'area della mappa che volete poter consultare offline. Ovviamente più vasta sarà l'area che selezionerete e maggiore sarà lo spazio che occuperà la mappa sul vostro dispositivo. Fatto ciò, premete su download ed avete fatto. Quindi anche quando non avrete internet potrete consultare tutte le mappe che avete scaricato. Una volta concluso il viaggio, nel caso delle mappe non dovessero più servirvi, vi basterà riaprire l'applicazione, andare nel menu a sinistra e poi su mappe offline. E da qui è quindi possibile gestire tutte le mappe scaricate, quindi possibile aggiornarle, anche se è possibile farle aggiornare automaticamente ed eliminarle. La seconda app fondamentale è Google Traduttore, anche questa è un'applicazione molto nota quindi non credo che servano presentazioni. C'è però una funzionalità molto utile che è la traduzione real time del testo che state inquadrando con la vostra fotocamera. In questo modo, tramite il vostro smartphone, vi basterà inquadrare ciò che volete tradurre e in modo quasi istantaneo l'applicazione Google Traduttore vi tradurrà quello che c'è scritto nella lingua da voi richiesta. Oltre a questa modalità di cui vi ho appena parlato, che si chiama istantanea, ce ne sono altre due. La prima consiste nel fare una foto tramite l'applicazione Google Traduttore e dalla foto l'applicazione vi traduce le scritte che ci sono. L'ultima modalità invece consiste nel poter caricare una foto dalla libreria foto, quindi importarla dentro l'applicazione Google Traduttore e da lì lui vi traduce tutto quello che c'è scritto. Quindi anche se è una foto passata, scattate qualche giorno prima, voi potete tranquillamente importarla e tradurre ciò di cui avete bisogno. Questa funzionalità della fotocamera, qualsiasi sia la modalità che voi scegliate, è molto utile soprattutto quando dovete tradurre lunghi testi, che quindi impieghereste molto tempo a ricopiare, oppure quando ad esempio andate in paesi asiatici, dove quindi non ci sono gli stessi caratteri che avete nella vostra tastiera, e quindi questa è la soluzione veloce e migliore. Altra funzionalità introdotta relativamente recentemente su Google Traduttore è la modalità conversazione. Questa modalità vi permette di avere una conversazione con una persona che parla una lingua diversa della vostra, quindi praticamente voi parlate nella vostra lingua del vostro smartphone, lui la traduce nella lingua della persona con cui state parlando, e a sua volta poi Google Traduttore traduce quello che lui dice a voi nella vostra lingua. Insomma anche questa modalità, anche se non l'ho mai provata, è comunque molto molto comoda. Passiamo ora alla terza app, che in realtà sono più app, che comprendono tutte le applicazioni di trasporto automobilistico privato, dove le più famose e conosciute sono Uber e Lyft. Per chi non lo sapesse, queste applicazioni vi permettono di chiamare un taxi, però privato, quindi sul veicolo non ci sarà alcuna scritta taxi, e oltre a venire alla vostra posizione, dall'applicazione dovete indicarli anche la vostra destinazione, e ovviamente il pagamento andrà fatto tramite appunto l'applicazione stessa. Perché queste app possono essere utili? Beh, intanto c'è da specificare che in questo caso io le intendo come app utili e non indispensabili o fondamentali, proprio perché comunque c'è sempre l'alternativa dei mezzi pubblici. Però prendere un Uber o un Lyft appunto ha i suoi vantaggi, che principalmente è il tempo che ci percorrete per andare da un posto all'altro, anche se il compromesso è il costo. Però questo non vale sempre. Infatti, se ad esempio si è già in due e si vuole prenotare un Uber, alla fine il prezzo che volete pagare sarà da dividere in due persone. Quindi alla fine vedete che non c'è tutto questo risparmio dei trasporti pubblici rispetto a un Uber o un Lyft. Ovviamente dipende anche dalla distanza che dovete percorrere. Inoltre c'è anche la modalità di sharing, che consiste nel far salire altre persone sul veicolo dove siete, e in questo modo il tempo di percorrenza ovviamente aumenta perché probabilmente dovrete fare un giro più lungo, però il prezzo viene praticamente dimezzato rispetto alla versione normale di Uber e Lyft. Voi infatti sapete quanto io preferisco comunque scegliere sempre l'opzione più economica, quindi in questo caso i mezzi pubblici, però ci sono dei casi in cui effettivamente Uber e Lyft mi sono state utili per diversi motivi. Però ad esempio mi è capitato di doverle utilizzare, ad esempio a Toronto, che ero appena arrivato, ero stanchissimo, avevo le valigie, e se avessi preso la metro dovevo andare giù, su per la metro, e comunque la metro non mi avrebbe portato proprio di fronte la mia casa. Quindi in quel caso ho preferito spendere un po' di soldi in più, però arrivare subito a casa tramite un Uber. Altre volte in cui l'ho usato invece è stato tipo quando ero in ritardo, quindi per risparmiare tempo avevo chiamato un Uber o un Lyft, adesso non ricordo, mentre anche un'altra volta, siccome era molto lontana la fermata della metro, io e mia amica abbiamo preso un Uber sharing e avevamo pagato soltanto 2 dollari, quindi capite che non sempre costa molto, poi dipende anche da città in città. L'ultima applicazione di cui vi parlo oggi in realtà non è un'applicazione, o almeno ci sono tante applicazioni con cui è possibile farlo, ma si può fare anche tramite semplicemente una ricerca internet, ed è la conversione di valuta. Questa cosa è molto utile appena si arriva in una città che ha una moneta diversa dalla nostra, poi con i giorni, man mano che voi spendete soldi con la valuta straniera, diciamo, vi abituate, quindi non sarà più necessario l'utilizzo di qualche app appunto di internet. Come appunto detto prima, la conversione si può fare o tramite qualche applicazione, oppure molto banalmente tramite internet. Se invece avete un iPhone, per quanto riguarda Android non ne ho idea, dato che ho sempre avuto iPhone, basta andare nel search, quindi basta scorrere il dito verso il basso dalla home, e scrivere la cifra e la valuta che volete convertire, e in automatico vi viene convertito in euro. Se invece volete convertire quel valore in qualche altra moneta che non sia l'euro, basta molto semplicemente scriverlo, anche molto banalmente a parole. Ragazzi, per questo video è tutto. Se avete altre applicazioni che voi utilizzate durante i vostri viaggi, che volete suggerirmi, scrivetemele qui sotto nei commenti. Se il video l'avete trovato utile, lasciate un mi piace ed iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!